Ciao a tutti ragazzi, sono Sabato di Sabato di Rux1, oggi ci avremo... Vabbè, farò vedere come ingaggiare il capitano del regno, che sarebbe Robingo, Mark Robingo E oggi farò vedere come ingaggiare Se lo trovo Comunque vi voglio solo dire una cosa che l'ho già appreso Però vi voglio solo far vedere come... I miei circuiti non mi ingannano, questo giocatore è già nella tua squadra, infatti lo so Comunque vi farò vedere dove si trova, anche se l'ho già appreso, vi farò anche vedere dov'è Allora, scusate per la brutta... Eccolo qui, Robingo E le sue tecniche, che ancora non le ho imparate tutte, però ho imparato fino ad ora Corpo di Samba, che è super elastico, tiro di rotante E poi un'altra cosa che ancora non mi ricordo E lo troverete molto facilmente Voi sarete negli alloggi, no? Voi sarete negli alloggi No? Quando ingaggerete ancora, oppure sarete da di là, no? Poi basta che uscite Basta che uscite Scusate per la brutta visualizzazione Lo troverete qui Però dovete andare sempre avanti e indietro finché non vi appare E dovrebbe apparire un puntino proprio qui Dove, vicino a questa specie di laghetto Lo troverete lì e voi dovete fare tre partite Prima dovete dare un gol, poi due e poi tre Poi entrate e uscite continuamente finché non lo trovate Anche se però io ancora ce l'ho E non posso far vedere dove Non posso, diciamo Ingaggiarlo direttamente Perché l'ho già ingaggiato Comunque ragazzi, questo è tutto E grazie per aver visto questo video Ragazzi Bitch 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 Bitch